Oggi il Megafono lancia un appello alla coalizione ora di pensare a vincere. Voi dite puntare su Enzo Bianco come candidato unico seppure qualcuno ancora nel centro-sinistra parla di primarie e non esprime solidarietà alla candidatura di Bianco? Dopo il bellissimo incontro del mondo del volontariato e l'appello che il mondo del volontariato ha fatto abbiamo incontrato questo mondo e dopo l'appello stesso che sostanzialmente sostiene che ormai la vicenda delle primarie si può ritenere superata, riteniamo che adesso sia il tempo di passare avanti, di mettere in moto il tavolo della coalizione, la cabina di regia per il programma, una cabina di regia per le liste. Riteniamo che sia arrivato il momento di pensare ad altro. Stancanelli ha chiuso la sua coalizione, noi pensiamo che non dobbiamo dare vantaggio. La vicenda nazionale ci insegna che non possiamo immaginare che abbiamo già vinto. Dobbiamo perdere un attimo a parlare con i catanesi, stiamo parlando troppo con noi e poco con la città. Dunque non si deve perdere tempo, secondo voi, ora di parlare di programmi e progetti. Qual è il programma del megafono per Catania? Sintonizzarsi col governo regionale, taglio ai privilegi, taglio alla manciuglia, dobbiamo mettere in moto questa città partendo da un taglio delle spese e da quello che la città deve ricominciare a partire. Deve mettere in moto tutte le sue energie e noi pensiamo che ci siano le condizioni a poterlo fare in questa città. Restando sul movimento c'è un sito internet che è proprio il megafono Catania che ha avuto molto successo in questo periodo da quando l'avete aperto. Lì si fa tutto, si propongono idee, progetti, ci si autocandida per i vari consigli comunali, circoscrizionali. Insomma, nell'era di internet avete voluto seguire un po' quella che è la tecnologia? Bisogna mettere l'orecchio a terra e capire che cosa vuole la gente. Grillo ci ha dato un solo insegnamento, c'è voglia di partecipazione. Invece di limitare la partecipazione agli amici di Grillo, a quelli del meetup, abbiamo chiesto a tutti i catanesi, a tutta la provincia di Catania di volersi confrontare con il megafono e voler proporre la propria candidatura. Un successo straordinario, 40 candidature tra Consiglio Comunale e Municipalità nella città, 20 candidature nella provincia, la richiesta di aprire circoli in tutta la provincia, volontari, volontari vogliono fare segreteria, vogliono fare volantinaggio. Non abbiamo fatto altro che dare voce a quella che era la volontà dei cittadini di voler partecipare. Questo strumento in 15 giorni, 2000 visite, penso che abbia dato le risposte giuste.